E' sforza, il caffè latte di stamattina, no che cazzo, no, ma cioè no, assolutamente no, non, no, ah sì, sì sì, sì, ti senti un po' impallinato? A Trentino Calt, Pietro Dal Praha, se tu dovessi descrivere ad un marziano che cos'è arrampicare, cosa gli racconteresti? Andare contro corrente, andare contro la gravità, visto che è un marziano, mi viene in mente della forza di gravità, arrampicare sì, è un po' andare contro la gravità, se vogliamo, andare un po' contro corrente, andare in un luogo forse che non è fatto proprio per l'uomo, ecco, la verticalità, un bel moltiplicatore di distanze. Da quanti anni è che vai contro la gravità, contro corrente? Forse da sempre, ma diciamo fisicamente da quando avevo 12 anni ne sono passati 26, 27. Cosa ti ha dato arrampicare in tutti questi anni e cosa pensi che ti potrà dare ancora? L'arrampicata mi ha dato tante emozioni, tanta vita vista, sognata, tante distanze, tanta lontananza, tanta bellezza sicuramente, tanta conoscenza anche del mondo. Dall'altra parte però leva anche la scalata, diciamo che è abbastanza una droga arrampicare e quindi diciamo che ti rende un po' monotematico nelle emozioni, poi per arrampicare bene bisogna arrampicare tanto, bisogna dedicarsi molto alla scalata e in questo senso si perdono altri aspetti della vita sicuramente. Ti aspetti che ti potrà dare ancora? Sì, assolutamente, bello spero, se no non arrampicerei più. E so che probabilmente dal momento che mi darà ancora, mi toglierà ancora. A 16-17 anni praticavi già le difficoltà estreme, a 21 sei diventato una guida alpina. Qui si tratta di talento naturale oppure in arrampicata c'è molto da imparare? Entrambi, un po' si nasce con una predisposizione e penso che sia una predisposizione mentale anche, non solo fisica, questo certamente. Poi diciamo ecco la predisposizione non è mai abbastanza, ci vuole sicuramente molta pratica, per arrampicare bene bisogna arrampicare tanto. Oggi come consigli il lavoro di guida alpina con la libertà di fare quello che ti piace? Ma la guida alpina lo faccio sempre meno, è diventato un secondo lavoro, per cui non è più un lavoro, è quasi un piacere, anzi è un piacere. Vado in montagna, diciamo accompagno in montagna le persone che ho un po' scelto e che un po' hanno scelto me e quindi con cui c'è una certa comunanza di piaceri e con cui ci si assomiglia. Fare la guida alpina come secondo lavoro è il massimo, è bellissimo. Perché non si è appunto pressati, non si ha la pressione di doverci vivere e si ha la possibilità di scegliere. Spero di farlo per sempre, la guida, perché è una cosa che hai dentro, è proprio lo spirito guida, lo spirito dell'apprezzare proprio il saper far provare delle emozioni, che è una cosa bellissima. Spero di farlo per sempre, ecco. E parlando delle cose che ti piacciono, è più bello, è più importante aprire una via nuova o fare una grande ripetizione? Aprire una via nuova. Perché? Perché si vive proprio il carattere esplorativo della scalata, proprio dal momento che ci muoviamo su un terreno che non è fatto esattamente per l'uomo, la verticalità, ci si sente esploratori e poi perché quando apri una via nuova ti senti di andare in posti più lontani in qualche modo. Penso che uno dei grossi fascini dello scalare, dell'alpinismo, della montagna in generale sia proprio la lontananza, quella cosa che ti fa sentire un po' più piccolo piccolo e che ti fa sentire quello che c'è intorno un po' più grande. Dicevi che arrampicare dà molto ma toglie anche. Ti ha dato o ti ha tolto dell'equilibrio? Entrambi. Direi che mi ha dato l'equilibrio, da sensibilità sicuramente ne ha anche tolto, proprio per questo connotato fortemente dopante dell'arrampicata. Ci si abitua a emozioni forti quando si va a arrampicare. Si torna alla quotidianità, alla vita sul piano e si è abituati a emozioni molto forti, quindi non è così facile vivere con equilibrio invece la normalità di tutti i giorni. Colpisce di Pietro Dal Pra l'enorme varietà di tecniche, di stili, di modi con cui è arrampicato ed arrampichi. Insegui forse l'idea di uno scalatore totale a 360 gradi? Si, sicuramente a me piace arrampicare su tutti i terreni, assolutamente. Trovo che dia quelle emozioni diverse che contribuiscono a renderti una persona più viva, ma è semplicemente una questione di gusti. È semplicemente un mi piace di più. Esatto, è semplicemente un mi piace di più. Non è dettato da nessun devo andare di qua piuttosto che di là, mi piace di più. Poi io sono uno che si stufa delle situazioni, quindi devo per forza cambiare ambiti, diciamo. Che cos'è per te la sportiva? Un bel mondo di lavoro e un bel mondo che mi aiuta a rimanere a contatto anche con il mondo della scalata, assolutamente. Un bel gruppo di amici, mi piace molto dedicarmi al prodotto, mi piace anche parlare di scalata. Io che tenderei piuttosto ad isolarmi come scalatore, ecco la sportiva è un mezzo per tenere un po' i piedi per terra per tenermi a contatto con il mondo della scalata. Infine, perché arrampicare in solitaria? Ah, impossibile. Passiamo a una domanda, è veramente difficile il dire perché. È una spinta che c'hai dentro, che non sai neanche spiegare. Se proprio vogliamo riassumerla in tre parole, il bisogno di urlare, di urlare alla vita. Domanda alternativa, non c'è nessuna, abbiamo finito. Grazie. Grazie.